Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code a tratti tra Monte Catini e Firenze Ovest. Sulla Fipili per lavori, un chilometro di coda tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in entrambe le direzioni. È chiuso lo svincolo di Montelupo Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla Statale 64 Porrettana, all'altezza della Galleria del Signorino, restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Buon versito Scana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!